Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva lunedì 21 maggio 2018, un lunedì che viviamo con il sorriso per la salvezza dell'Udinese che è arrivata con il successo di ieri contro il Bologna a onor del vero retrocessione del Crotone che comunque avrebbe salvato l'Udinese ma lo abbiamo ripetuto in moltissime riprese nella giornata di ieri, era importante vincere, chiuderebbe la stagione a prescindere dagli altri risultati e così è stato, come abbiamo visto già dalla rassegna stampa della redazione cronaca con Angela Caino, la prima pagina del Messaggero Veneto dedica molto ampio spazio al gran cuore del Friuli che salva l'Udinese con i 25 mila che sostengono fino all'ultimo i bianconeri che vincono e restano in Serie A, fotonotizia proprio dedicata alla curva, ai tifosi bianconeri che hanno sostenuto la squadra e si vede anche il tabellone luminoso con l'1 a 0 e recita il risultato finale con il sigillo di Fofanà che ha portato in dote questi tre punti pesantissimi, Udinese salva ma ora l'aria deve cambiare, questa è l'analisi di Pietro Leotto sul Messaggero Veneto, lo si era detto anche questo, sarà tempo di bilanci, di tracciare la linea, di vedere chi dovrà rimanere, chi dovrà andare, cosa si dovrà cambiare ma prima facciamo il consueto passo indietro, godiamoci le emozioni, le tante belle occasioni da gol e la rete di Fofanà che hanno deciso l'incontro di ieri Vincere per salvarsi e lo fa l'Udinese contro il Bologna in una partita delicatissima con la Dacia Arena praticamente tutta esaurita sospingere i colori bianconeri verso una permanenza in serie per il 24esimo anno consecutivo per quanto riguarda l'Udinese con Tudor che conferma la formazione vittoriosa a Verona unica novità, cambio tra squalificati, va fuori i berami, rientra Fofanà dopo il turno scontato, dopo il rosso preso contro l'Inter nel Bologna invece più di qualche cambio, tantissime d'assenze da destro a Palasio passando per i difensori Gonzales e De Lander in attacco c'è Avenatti insieme a Verdi e Orsolini, queste le scelte di Donadoni che forse è arrivato all'ultimo atto della sua avventura con il Bologna parte benissimo l'Udinese che dominerà per tutto l'incontro con un immenso, un magistrale Emil Alfredson che gioca la sua miglior partita forse da quando è in bianco nero qui, arma il destro di Janktopala che finisce alta, ma l'Udinese gioca benissimo, Barak stoppa male poi un retropassaggio, arma il destro di Struger Larsen, destro secco del danese, altra prestazione monstre per lui in vista del mondiale che affronterà con la sua Danimarca, tiro molto bello da Costa Battuto ma l'incrocio dei pali, dice di no al numero 19 come il portiere chiamato all'ultimo minuto al posto di Milante infortunato, dice di no a Rodrigo De Paul prestazione molto buona anche quella dell'Argentino che va vicinissimo al gol che gli manca su azione dal 9 aprile dell'anno scorso del 2017 ma da Costa è davvero molto bravo sul tiro dell'Argentino, non può nulla invece il portiere del Bologna su quest'azione favolosa dell'Udinese, tutta a due tocchi con Barak che illumina il corridoio per Secofo Fanai proprio lui si fa perdonare quell'espulsione contro l'Inter con il gol più pesante, bellissima la verticalizzazione altrettanto bello il tiro, tutto nasce come al solito da un ennesimo pallone recuperato dal super Emil Alfredson visto oggi a cui la splendida curva nord gli dedica anche un geyser sound qui non passa benissimo il pallone Alfredson ma poi spaccato va da lasagna da Costa, dice di no prima all'attaccante Scarpi, poi a Barak, bravissimo in questo doppio intervento il portiere brasiliano Barak che cercava il secondo gol consecutivo dopo quello che è valso tre punti al Bentegodi lo squillo del Bologna nel finale con Verdi che colpisce malissimo da buona posizione il capitano di giornata del Bologna però tradisce i suoi tifosi con un tiro davvero molto brutto da distanza ravvicinata, poteva fare sicuramente meglio il giocatore che ha questa volta diciamo in maniera sicura giocato la sua ultima partita contro il Bologna sfortunatissimo De Paul che strozza l'urlo in gola del gol ai tifosi friulani poi scuote la testa davvero sconsolato De Paul, indovinate sull'assist di chi Emil Alfredson che arma il destro di Rodrigo De Paul, palo, linea e sfera che esce nel finale un brivido con l'Udinese che rischia addirittura di non vincerla e sarebbe stato un delitto clamoroso ma prima è bravo Albano Bizzarri a bloccare il tentativo dalla distanza velleitario di Simone Verdi poi su un altro tentativo di Creici ancora Bizzarri fa sua la sfera senza troppi affanni interventi di ordinaria amministrazione che diventa invece intervento provvidenziale salva risultato, salva vittoria quello di Bizzarri che mura così proprio Faietti che era entrato dalla panchina e stava per segnare il gol sull'assist di De Maio su una delle piccole poche disattenzioni di un'Udinese praticamente perfetta che vince, sale a quota 40, scavalca proprio il Bologna e chiude con due vittorie una stagione difficile, grandi abbracci, grande gioia per Tudor che chiude le sue quattro partite con sette punti realizzati sui dodici disponibili la felicità anche della famiglia Pozzo, Giampaolo e Gino come detto ventiquattresimo anno consecutivo in Serie A per l'Udinese, più che meritata più che meritata la salvezza dell'Udinese al di là di ogni discorso tornando sul titolo del Messaggero Veneto con quest'aria che deve cambiare Bologna KO con Fofanà si chiude una stagione da dimenticare con Pietro Leotto che dice appunto che questa vittoria non ha dovuto far aspettare i risultati dagli altri campi, Crotone che è finito di nuovo in Serie B dopo la missione di Ricola dell'anno scorso ma dato da sottolineare che i bianconeri hanno dimostrato davvero negli ultimi 90 minuti di saper dare l'anima onorando quello che è stato lo slogan utilizzato dall'Udinese per il lancio della campagna abbonamenti a inizio anno, un'anima data in campo fino all'ultimo anche molto bella la foto nella doppia pagina di De Paul e Fofanà che esultano dopo il gol che ha fatto vedere oltre a una grande anima della squadra ha fatto vedere le grandissime qualità tecniche di questi giocatori con l'azione proprio tutta alla mano da parte di De Paul, Barac e Seco Fofanà i tifosi sono stati ovviamente anche molto importanti il Napoli non ha pietà, retrocede il Crotone, le altre vincono tutti approfondiremo tutte le tematiche relative alle altre squadre di Serie A con i gol e le parole dei protagonisti dice poi anche Sarri che saluta meglio finire quando le storie sono ancora belle ci dice proprio qui Maurizio Sarri con le sue parole Sibilline, altrettanto Sibilline è stato De Laurentiis che proprio sul futuro dell'allenatore ha detto chiedete a lui quale sarà il suo futuro di solito accade il contrario è più l'allenatore che dice di chiedere al presidente vincono loro, il riferimento è ovviamente ai tifosi all'urlo di Udinese a lei non so stare senza te i tifosi avevano promesso il sostegno alla squadra è così stato per tutti i 90 minuti poi il solito coro dei tifosi devi spendere ma è stato soltanto una parentesi dice il messaggero Veneto non si sono registrati tantissimi cori anzi quasi praticamente per nulla cori contro l'Udinese gli ultimi biglietti comprati la mattina c'è stato chi ha provato è stato fortunato perché ha trovato qualche residuo posto libero con alcuni tifosi che avevano rinunciato alla fine ad arrivare a vedere la partita purtroppo per loro non si sono potuti un buono spettacolo buon per chi invece ci ha creduto fino in fondo alla fine la curva pare che non abbia voluto i giocatori sotto il proprio settore c'è stato questo momento comunque di applauso di tifosi dei giocatori ai tifosi ma qualche supporters della curva non ha voluto ricambiare il saluto dei giocatori che hanno chiuso comunque molto bene la stagione tra l'altro i supporters chiederanno alla società di fare il punto poter dire la propria come hanno vissuto questa stagione che sicuramente ha fatto registrare purtroppo tante sofferenze a livello di classifica sebbene poi l'epilogo sia stato molto molto buono incontro tra tifosi e società che tra l'altro c'era già stato nel corso della stagione vedremo se arriverà e con quale modalità arriverà nel corso dell'estate per la costruzione della prossima stagione qui tantissimi scatti che immortalano davvero tantissimi tifosi arrivati ieri alla Daccia Arena con anche molti appassionati di Rodrigo De Paul e qui c'è un bel selfie anche di Struger Larsen a fine partita con l'immancabile bandiera danese ricordiamo che Struger insieme ad Alfredson partiranno alla volta della Russia per giocarsi il mondiale 2018 li seguiremo da vicino a proposito di Alfredson l'abbiamo detto più volte del servizio ma non ci stancheremo mai di sottolinearlo il migliore senza dubbio ha giocato una partita incredibile innescando tutte le azioni pericolose davvero anche lui in forma mondiale nella sagra dei bei voti si becca invece una sonora insufficienza perizza 5 entra il campo al posto di Lasagna ma non ricambia la fiducia che gli dà Tudor nel finale di gara tra l'altro poi c'è anche l'analisi di Bruno Pizzul mister Tudor ha fatto la sua parte nella rubrica La mia domenica Pizzul ci dice alla fine la sospirata salvezza è arrivata senza i temuti affanni dell'ultima ora un Bologna dimesso non ha reso dura la vita all'Udinese che ha vinto in tranquillità anche se la squadra ha chiuso in calando però nel complesso è stata una prestazione convincente forse anche di più da parte dell'Udinese che ha aspettato la fine del campionato per far vedere le sue grandi qualità ci fermiamo un secondo per andare come al solito a fare il punto del traffico cittadino con Igor Fabbro per la situazione che si registra in questa mattina in città e quindi chiediamo quelle che sono le situazioni in centro buongiorno 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 allora guardi al momento stazione tranquilla inizia il traffico della solita ora della mattina quello che posso segnalare invece sono alcuni lavori che interessano la città da alcuni giorni per esempio la saltatura di Viale Trieste zona Viale 23 Marzo la sistemazione degli attraversamenti pedonali in Piazzale Diacono e da oggi proprio inizieranno anche i lavori di costruzione dell'aerotrattore del nuovo ospedale in Via Colugna per cui sarà istituito un senso unico in un tratto appunto di Via Colugna altre cose importanti in questo momento non ho da segnalare grazie a Igor Fabbro ispettore superiore della centrale operativa della Polizia Municipale abbiamo visto anche nella slide show le immagini del traffico scorrevole in centro città con le segnalazioni che erano doverose da fare ancora un buon lavoro alla centrale operativa della Polizia Municipale noi torniamo sui giornali chiudiamo il discorso Pagelle Alfredson Mondiale Larsen Terzino funziona che se aggiungerei funziona dovunque Struger Larsen ha giocato davvero sempre bene Bizzari resta a lungo inoperoso nel finale salva la vittoria a Suffajetti Jankto fa male quando accelera De Paul si accende a intermittenza come detto tutte le sufficienze anche abbondanti sui giocatori se è in mezzo per i vari Fofana e De Paul con proprio Perizza che entra e sbaglia troppo confermando dubbi sulle sue qualità l'unica insufficienza insieme anche a quella di un altro subentrato Widmer 5 e mezzo perde un pallone che potrebbe costare caro al limite della sua area un comunque un giudizio positivo complessivo su quella che è stata tutta la partita della squadra ci sono poi le parole dei protagonisti con Lasagna che dice era importante chiudere vincendo De Paul invece un po' deluso ci tenevo a segnare e Perizza che dice ora dobbiamo recuperare la testa alla fine hanno tirato tutti un grande sospiro di sollievo iniziando da Chemi Lasagna acclamatissimo dal pubblico del Friuli la cosa importante era concludere con una vittoria ha dichiarato l'attaccante perché una stagione che non era andata bene Perizza ha detto si è trattato di una vittoria importante fondamentale siamo contenti della permanenza in Serie A c'è anche De Paul che ha detto ci tenevo a segnare ma non sono stato fortunato perché davvero il palo gli ha detto di no sentiamo le parole di Rodrigo De Paul ai nostri microfoni una partita per lui molto buona a chiudere una stagione così così che però è andata a finire in crescenda Rodrigo De Paul che per tanto così non è riuscito a chiudere la partita però l'obiettivo è stato raggiunto immagino c'è un pizzico di rammarico per quel palo ma tanti sorrisi poi sì sì come sempre dico l'obiettivo è stato è vincere chi fa gol lo lasciamo in secondo plano però poi alla fine voleva farlo però sta bene è stata una partita in cui avete cercato ovviamente di dare soddisfazione al pubblico in primis che è venuto così tanto soprattutto c'era questo obiettivo della salvezza è stata una settimana chiaramente difficile però poi in campo siete riusciti finalmente a tramutare quelle energie in energie positive e soprattutto fare una grande prestazione sì hanno stato sei mesi difficili veramente per quello quando abbiamo fatto il gol tutti quelli che erano alla banchina noi abbiamo stato insieme perché era un momento che guardavamo era l'esplorato io era da solo e lì quando abbiamo fatto benissimo il gruppo questo che si parla tanto secondo me è stata la migliore partita che abbiamo giocato un primo tempo benissimo il secondo normale si basa un po' una squadra che gioca bene come Bologna però penso che il risultato è stato meritato mi pare di capire che l'immagine con cui Rodrigo De Pol vuole ripartire dal prossimo anno è quel grande abbraccio davanti alla nostra panchina sì sempre quando si riparte con questo gruppo sicuramente faremo faremo grande cosa perché nel calcio il gruppo è troppo importante in questi sei mesi si è visto non conosco tutti i gruppi della Serie A però sicuramente uno dei miliardi Palleva sul gruppo Rodrigo De Pol che nel rush finale ha tirato fuori la grinta che era mancata in alcune circostanze c'è poi Alfredson che da saggio di questo gruppo pensa al futuro bisogna crescere in mentalità l'islandese è stato uno degli elementi di equilibrio nel finale di campionato e adesso può godersi il mondiale due partite giocate molto bene Verona e Bologna per Emil Alfredson che si è preso un riscattato proprio si è preso una piccola rivincita se vogliamo nella gestione Oddo era stato quello forse più penalizzato non aveva praticamente mai giocato e ha fatto vedere le sue qualità il pubblico ci ha anche criticato e le critiche sono normali e giuste soprattutto quando perdi ma avevano voglia di restare nella massima serie così come noi ha detto Emil Alfredson e alla fine sono stati tutti contentati Igor Tudor durante l'intervallo ha detto che il crotonè vinceva a Napoli 2 a 0 e che chi mollava sarebbe stato sostituito tra l'altro ieri c'era stata questa scelta direi più che mai giusta di non mandare risultati live gli aggiornamenti nel corso della partita anche se poi al primo tempo è stato fatto un riepilogo dei risultati quindi non so quanto sia stato credibile la frase di Igor Tudor che ha mantenuto i suoi sulla corda ed è giusto così Tudor che poi ha aggiunto ho un'idea sulla nuova squadra ne parlo con Pozzo non ha voluto affrettare i bilanci di fine stagione il tecnico è soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi pensa già all'organizzazione della prossima stagione è stato molto chiaro ha detto lunedì se ne parlerà perché adesso è il momento di goderci la festa di goderci la permanenza in Serie A sentiamo anche le parole di Igor Tudor appunto che con soddisfazione commenta l'obiettivo raggiunto mister Igor Tudor quattro partite sette punti ma soprattutto quello che era stato chiesto dalla società vuole dire portare la salvezza a casa questa è la soddisfazione più grande ma sì sì questo era il compito siamo tutti contenti dopo anche per una bella vittoria a casa dopo un anno sofferente faccio complimenti ai ragazzi perché ho visto un grande sacrificio grande voglia di fare questa vittoria di regalare anche a tifosi che hanno sofferto tutto l'anno un fine un po' così dai è bene niente giriamo la pagina si guarda in futuro è così nel 2018 tra l'altro non era ancora arrivata la vittoria forse se la sono gustata anche di più tanti applausi questa forse è una delle immagini più belle che arrivano da giornata di oggi aver soddisfatto questa gente è veramente da primo minuto si è sentito veramente una bella energia e poi questo è caricato anche ai ragazzi è stato bello vedere quella voglia di ultimi minuti anche sapendo che siamo salvi la voglia di non prendere questo gol fare tre punti ecco e anche quest'oggi scelto le scelte sono arrivate sempre sulla base della personalità sono arrivate risposte importanti uno su tutti Emil Alverson che ha fatto una prestazione veramente mostruosa no no veramente gli faccio complimenti perché prima di tutto un grande professionista che si è trovato anche non giocando tanto si è trovato pronto quando sono state queste due partite decisive ci ha dato veramente l'esperienza ci ha dato anche la geografia in gioco perché uno con il piede sinistro che dà questo calcio che a me mi anche piace e niente gli auguro un grande mondiale è qua mister ho sentito che ha rivelato un passaggio di quello che ha detto all'intervallo alla fine invece della partita cosa ha detto ai suoi ragazzi che hanno conquistato questa salvezza complimenti perché sono anche tanti di loro tanto tanto giovani che noi diciamo che però per loro non era facile avere questo numero di sconfitte ti crea un blocco enorme dentro e li ho visti veramente felici si riparte da loro per il futuro dell'Udinese si riparte si riparte pronto a ripartire Tudor nella prossima stagione noi siamo pronti invece a collegarci con l'edicola di Cossignacco dove ci aspettano come di consueto Davide Zairato e Gigi Danzilli buongiorno a voi buongiorno Stefano buongiorno da Cossignacco assieme a Gigi Danzilli iniziamo il nostro punto sul fine settimana sportivo partendo proprio dall'Udinese ha parlato poco fa abbiamo riascoltato le parole di mister Tudor ha fatto i complimenti soprattutto ad Alfredson per la prestazione ha fatto leva sulla personalità per la formazione utilizzata ieri contro il Bologna è arrivata alla salvezza come si sperava se abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza è stata veramente sofferta quest'anno però alla fine l'abbiamo portata a casa probabilmente ieri un giocatore come Alfredson più che per la qualità proprio per la mentalità questo giocatore comunque è abituato ha fatto un europeo è un giocatore che è abituato a giocare in nazionale probabilmente per quei tipi di partite lì è un giocatore pronto sono contento che ha segnato Fofanà anche se non ha fatto una prestazione eccezionale ci ha consentito di vincere la partita io spero che si riparta da qua con la consapevolezza che il prossimo anno le squadre che verranno su dalla Serie B comunque sono l'Empoli il Parma squadra di qualità di non sottovalutare il campionato come è stato fatto magari negli ultimi anni e di cercare magari di trovare subito una squadra con delle idee no? e probabilmente qualche cambiamento sarà da fare sicuramente grazie grazie a Gigi che ritroveremo più tardi poi per commentare anche gli ultimi verdetti del calcio regionale e non solo a te Stefano continuiamo a fare qualche passaggio sul messaggero veneto prima di tornare a parlare di Udinese e di altre tematiche della Serie A c'è il Pordenone che cerca il mister in Pol D'Angelo e Zironelli che sono in fila per un posto proprio sulla panchina del Pordenone non dimentichiamo nella giornata di ieri comunque come impazzi il Giro d'Italia anche nella regione e non solo la rivincita con Iets che vince la quindicesima tappa partita da Tolmezzo Auro in crisi arriva con quasi 20 minuti di ritardo la corsa si è decisa sullo strappo di Costa Lissoio 3,7 chilometri con pendenze complicate specie all'inizio nei tre arrivi in salita del fine settimana sarà molto dura per l'olandese a caccia del Bis per tenere testa agli attacchi la crono è un problema Dumoulin potrebbe darmi anche tre minuti l'inglese in rosa sa che dovrà soffrire ancora di più per vincere la corsa ma il CT Azzurro Cassani lo ritiene favorito ha un buon vantaggio vediamo poi anche la pagina che celebra la bellezza anche di Sappada con la politica che lascia il palco allo sport niente incontro tra Zaio e Federica e polemiche dimenticate qui ci sono alcune istantanee davvero molto belle del Giro d'Italia che passava di lì lo Zoncolan spopola anche sui social già si pensa al ritorno il connubio Friuli Giro è garantito ma ci sarà una pausa il patron Cain lo sogna di aggiungere il Crostis vedremo se ci sarà anche questa questa novità ci spostiamo infine anche sul basket prima di chiudere questa notte la prima parte insieme perché sarà oggi una gara molto importante Diop suona la carica portiamoli a gara 5 la grande protagonista sabato vuole concedere il bis ha superato questi problemi che aveva avuto a Casale è stato davvero molto importante coach Ramondino ha chiesto di alzare la qualità sempre Diop bravi a non perdere mai la testa vogliamo arrivare in semifinale e poi indica l'esempio da seguire quando vedi i busciati tuffarsi a terra per recuperare una palla non puoi che imitarlo coach Lardo dice che invece bisogna migliorare in attacco pedone siamo pronti alla battaglia che arriverà con palla a due questa sera alle ore 20 e 30 per forzare la serie a gara 5 quindi con un eventuale ritorno a Casale dove cercare l'impresa ma prima bisogna vincere la partita di stasera siamo arrivati a termine della nostra prima parte insieme un piccolo passaggio promozionale poi torniamo con previsioni meteo ancora tantissime tematiche da approfondire qui a Buongiorno Friuli Di nuovo Buongiorno Friuli sempre in nostra compagnia per concludere la nostra rassegna stampa insieme c'è ancora tanto di cui parlare ma come di consueto iniziamo questa nostra seconda parte insieme con le previsioni del meteo ci colleghiamo con lo smerarpa con Livio Stefanotto per sapere tutto sulla giornata di oggi e sui prossimi giorni Buongiorno buongiorno a tutti dunque partiamo bene questa mattina con cielo abbastanza soleggiato in particolare su pianura e costa dove il cielo è quasi sereno se non per qualche velatura ad altissima quota ma nulla di importante soffia Bora sulla costa con raffiche che questa notte hanno superato i 60 km all'ora in montagna un po' più di variabilità in particolare sulle Giulie sul fondo valle da Tervisiano per delle nubi medio-basse che arrivano da est dalla Slovenia e dall'Austria e che quindi portano un po' di nuvolosità nel corso della giornata di oggi ci aspettiamo qualche velatura un po' più consistente nel corso della giornata sulla pianura e sulla costa qualche cumulo in montagna che potrebbe portare anche localmente a qualche breve pioggia o qualche locale rovescio temporalesco forse più probabile appunto sulle Giulie e sulle prealpi carniche e in Carnia temperature massime oggi attorno ai direi sui 26 gradi sia in pianura che sulla costa perché appunto soffia il vento da est il vento di Bora domani probabilmente il tempo peggiorerà un po' di più c'è un debole fronte che arriva da sud verso la nostra regione e quindi porterà un aumento della nuvolosità già dal mattino e avremo delle piogge sparse in genere deboli o moderate e qualche rovescio temporalesco qualche temporale un po' più consistente poi nel pomeriggio nel pomeriggio sera probabilmente piogge più frequenti sulle zone orientali di meno su quelle occidentali in ogni caso alternate a fasi di tempo in cui non piove e probabilmente anche con qualche schierita domani probabilmente le temperature massime saranno dei 3 o 4 gradi più basse rispetto a oggi è tutto buona giornata grazie mille allivio Stefanutto e buon lavoro a tutti i previsori dell'Osmer Arpa a questi gli aggiornamenti meteo per le prossime ore continuiamo nella nostra segna stampa partiamo da Tudor che sul gazzettino vengono riportati le sue parole contento un risultato di passione il tecnico chiamato a salvare l'Udinese ha compiuto la sua missione la squadra si è sacrificata per il bel gioco servono giocatori top sarà la società a decidere i programmi futuri qui anche la foto la festa sui social con Jens Struger Larsen che ha pubblicato questa foto di festa con Danilo Maxi Lopez De Pauli Giuliano e anche il mitico Alessio Lovisetto la gente è venuta alla Dacia Arena si è divertita nel finale era giusto difendere il risultato come ha sottolineato nelle parole che abbiamo sentito prima di Tudor nella sua intervista dicendo che comunque una squadra che ha lottato nonostante fosse chiaramente salva visto il risultato di Napoli Lasagna una salvezza sofferta speriamo di rifarci l'anno prossimo ha detto il bomber di questa squadra che ha chiuso 12 reti non dimentichiamo che ha eguagliato quello che è stato il record piazzato l'anno scorso da Cyril Terro De Paul concreto Alfredson in grande forma sono praticamente quasi tutte sufficienze anche per il gazzettino tranne per Kevin Lasagna che prende 5,5 poco lucido evidentemente un po' stanco dice il gazzettino c'è poi la tematica sulla panchina del Pordenone italiano è un nome caldo per il dopo Rossitto Loviso sta pensando al tecnico dell'Arzignano che ha chiuso il campionato di serie D al terzo posto il rosa e il rinnovo di Berrettoni è tra le priorità dei Ramarri questo per quanto riguarda la panchina del Pordenone quindi non soltanto i nomi che abbiamo sentito poco fa ma anche quello che può essere una suggestione relativa alle serie minori il bilancio di una stagione di rimpianti dice il gazzettino con il Pordenone che era partito benissimo sembrava essere pronto a una cavalcata per la serie B così non è stato purtroppo per la squadra nero verde prima pagina della gazzetta dello sport che oltre a celebrare Yates padrone del giro con la maglia rosa che attacca ancora sappata staccatutti crolla Aru che ha 25 minuti di stacco si fanno già i processi un po' al crollo del ciclista italiano da grande spazio alla pazza Inter come di solito l'urlo Inter we are in champions parafrasando la canzone dei Queen all'Olimpico capolavoro nerazzurro nel finale ribaltata la Lazio in tre minuti dopo sei anni ritorna tra le big d'Europa Icardi raggiunge immobile sul trono dei gol 29 dice voglio restare De Vrij causa il rigore addio in lacrime giochera con Spalletti questa è la strana situazione di Stefan De Vrij che era già promesso sposo all'Inter e ha fatto un piacere ai nerazzurri siamo certi ovviamente non in malafede Crotone in B Salvi Spal e Cagliari con l'Udinese che chiude a 40 punti Manita Milan in Europa League dalla porta principale dopo il 5-1 alla Fiorentina Sarri Napoli ci risiamo non so se rimarrò qui De Laurenti dice il tempo è scaduto le alternative sembrano essere Giampaolo e Iunaiemeri Brescia ha battuto ai rigori vince anche il campionato femminile la Juventus Nadal ottavo imperatore la pioggia spegne Zverev questo è il risultato degli internazionali di Roma con Nadal che tra l'altro torna a essere numero uno la pazza Inter che è in Champions è il primo articolo interno della Gazzetta dello Sport Lazio avanti due volte poi ribaltone nel finale qui tutta la disperazione dei giocatori della Lazio e la festa di quelli dell'Inter un rapido riepilogo Juventus campione d'Italia raggiunta in Champions da Napoli Roma e Inter in Europa League per via diretta Lazio e Milan Atalanta che dovrà fronteggiare invece i preliminari retrocesse in Serie B quindi Verona e Benevento che tornano immediatamente giù e il Crotone per ora promosso in Serie A Empoli e Parma poi la vincitrice del playoff sarà una storia lunga tra molte squadre vediamoci di gol che sono stati segnati nell'ultima giornata di campionato Serie A che nel suo complesso ha anche superato quota mille reti e il millesimo gol lo ha segnato Seco Fofanà questa è la curiosità si parte però dall'unica gara giocata sabato che è quella tra Juventus e Verona nella festa Scudetto inizia le danze Rugani e poi la solita super punizione di Milanem Pjanic poi tutte tutte le scene le telecamere le foto per Gigi Buffon che lasciava la Juventus e nella festa Pinsoglio entrato al posto proprio di Gigi Buffon prende il gol di Alessio Cerci un gol inutile Verona che saluta la Serie A poi Cepitelli vola in aria aveva segnato anche contro l'Udinese e regala la salvezza al Cagliari che comunque sarebbe stato salvo anche non vincendo vince anche il Chievo palla illuminante di Birsa per Inglese Benevento battuto 1-0 Chievo chiude con gli stessi punti dell'Udinese e sono 40 per quanto riguarda la squadra Clivense qui vediamo anche poi il raddoppio di Inglese che sigla la sua personalissima doppietta Genoa Torino partita l'unica praticamente senza nulla in palio vince il Toro prima il gol di Iago Falche poi il raddoppio da parte di Baselli con la difesa del Genoa un po' ferma diciamo così per usare un eufemismo e nel finale Pasticcio invece della difesa del Toro è pallonetto morbido morbido di Goran Pandev che non serve però alla formazione di casa per tornare in partita Simeone porta in vantaggio la Fiorentina a Milano con un deluzioso tocco sotto sembra un pomeriggio difficile per il Milan che poi invece si sblocca con la punizione di Cianoglu giocatore rivitalizzato in maniera totale da Gattuso prende in mano il Milan e piazza anche l'assist del 2-1 cross perfetto sulla testa di Cutrone che in tuffo anticipa il difensore e la mette all'angolino esultando con i suoi tifosi sempre Cutrone impegna il portiere Viola Kalinic gol dell'ex in spaccata segna anche il numero 7 rosso nero non finisce il festival del gol del Milan che trova ancora un guizzo con Cutrone che fa 10 in campionato doppia cifra davvero un futuro rosio per il numero 63 del Milan ancora i giocatori di Gattuso però che non sono sazi e vanno in gol anche con Jack Bonaventura chiudendo la manita ai danni della Fiorentina il Napoli fa il suo dovere e manda il Serie B il protone gol di testa di Arek Milik su un grandissimo cross di Lorenzo Insigne che fa il bis qualche minuto dopo altro cross e altro tap in vincente questa volta il Cagliecon che rompe sul secondo palo e fa 2-0 inutile molto inutile il gol al novantesimo da parte di Tuminello bello sì un ballo all'angolino secondo gol in campionato per il giovane Scuola Roma del Crotone tutto facile per la SPAL tra le polemiche di Giampaolo e la Samporia per la direzione arbitrale rigore al secondo minuto segna immediatamente Antenucci che mette in discesa la partita poi rimane in 10 la Sampo con l'espulsione di Caprari e dilaga la SPAL prima con Grassi secondo gol consecutivo per lui in questo campionato in casa poi Antenucci che se la porta sul destro e va a metterla all'angolino è il capitano l'immagine della salvezza della SPAL arriverà poi l'inutile gol di Kovnacki e questo invece è il sigillo di Sekofofanane il boato della Dacia Arena il destro secco del Franco Ivoriano arriviamo poi alla gara davvero pazza dell'Olimpico con l'autorete di Perisic sul tiro di Maric per il vantaggio della Lazio l'Inter pareggia con D'Ambrosio praticamente sulla linea di porta del tapin del terzino di Spalletti con l'Inter che ci crede ma la Lazio trova la ripartenza giusta con un fenomenale gol di Felipe Anderson Lazio che spreca tante occasioni coglie un palo con Milinkovic Savic sembra in totale dominio ma poi nel finale De Vrij fa rigore sui cardi che non sbaglia fa 2 a 2 Lazio che immediatamente dopo rimane in 10 per l'espulsione di Lulic che abbandona la barca da capitano e di testa Vessino sul corner dalla destra trova lo stacco vincente 3 a 2 e l'Inter che intorno ai Champions dopo 6 anni chiudiamo con la goffa autorete di Pegolo che regala anche la vittoria alla Roma sul Sassuolo sull'iniziativa di Manolas questi tutti i gol tanti i gol segnati nella 38esima giornata torniamo nell'edicola di Cussignacco ancora dai nostri David e Gigi per ulteriori approfondimenti Si Stefano passiamo subito a commentare la grande vittoria della Lumignacco in trasferta d'Imperia negli spareggi per ottenere un eventuale ulteriore posto in Serie D un gol di Acampora con la formazione dell'Imperia ora che può giocare in casa con più sicurezza Sicuramente andare a vincere fuori casa contro l'Imperia visto anche che comunque io credo che sia una città anche importante Imperia quindi non parliamo più di squadrette ma di squadre veramente importanti io credo che siamo stati hanno fatto un'impresa veramente importante sono stato contentissimo che ha vinto l'Imperia Adesso speriamo che riesca ad andare su di categoria così abbiamo anche la possibilità di liberare dei posti sotto per le nostre squadre di promozione per andare su in eccellenza A proposito di eccellenza ieri sono arrivati gli ultimi verdetti storica la promozione del fiume Bannia che ha superato la San Vitesse per 1 a 0 e poi anche un po' di sorpresa per la vittoria della Juventina sul Primoria che era data ad inizio stagione tra le papabili proprio per salire anche visti i tanti investimenti che erano stati fatti Beh a me dispiace un po' per la San Vitesse perché l'allenò mio carissimo amico Max Rossi mi dispiace il cuore l'avevo messa anche come tra le papabili nel mio biglietto d'inizio anno però il fiume Bannia è da anni che comunque fa squadre importanti ha fatto un gol ieri Paciuli che è comunque un giocatore esperto sicuramente uno dei centravanti più forti della categoria complimenti a loro il fiume Bannia sta lavorando bene sia sopra che anche sotto con il settore giovanile la Juventina non mi sorprende fino ad un certo punto perché da anni che comunque è additata come una delle possibili vincitrici del campionato fa sempre squadre competitive la Juventina il Primoria è partito alla grande poi pian piano è andato calando sinceramente in una partita secca non mi ha sorpreso la vittoria della Juventina Fatto sta che insomma il calcio di Zontino il prossimo anno sarà di nuovo protagonista in eccellenza con la Progorizia era ora era ora sono contentissimo per la Progorizia perché torna nella categoria che gli spetta la Juventina è una squadra che negli ultimi 15 anni 16 anni ha sempre lavorato bene si è sempre lottato per i primi posti quando giocavo io ancora in eccellenza il presidente è un grandissimo appassionato quindi complimenti anche a loro grazie grazie a Gigi ritroveremo poi per i saluti finali a te Stefano eh sì noi ritorniamo dopo questo giro sui verdetti dei campionati direttantistici torniamo al personaggio il capocannoniere con immobile Maurito Icardi re del gol e sono tra l'altro 100 in Serie A con la maglia dell'Inter ora la Champions per la prima volta giocherà nella Coppa più importante il futuro ho comprato una nuova casa a Milano ha detto Icardi che festeggia per lui è assolutamente un momento top con anche quelle che sono state le reazioni al suo 29esimo gol appaiato proprio immobile e capocannoniere sentiamo le parole di Mauro Icardi e li lasciate in un festoso fine partita ai microfoni di Inter TV il miglior premio non sono i gol questo obiettivo è raggiungere la Champions è la miglior cosa che mi può capitare in questi ultimi 5 anni che sono qua con questa maglia era il mio obiettivo da sempre e oggi ce l'abbiamo fatta finalmente hai pianto? un pochettino mi sa che ho pianto non mi ho visto però un pochettino a fine partita sicuramente della gioia dell'emozione qualche lacrima è venuta fuori il gruppo è stato unito sempre questo lo abbiamo sempre ripetuto ognuno che ha parlato che ha passato per i microfoni di tutto il mondo ha ripetuto questo sono orgoglioso l'avevo già detto di questa squadra di questo gruppo e sono orgoglioso di aver raggiunto l'obiettivo che ci avevamo messo in Cina dalla tournée che abbiamo fatto lo scorso estate che era questo della Champions e sono contento che questa squadra ce l'abbia fatta sicuramente sarà un punto di partenza l'anno prossimo con una base con tutti questi giocatori che siamo qua e poi se la società farà un grande mercato aggiungeremo qualcosina in più per dare più valore alla squadra più valore alla squadra dice Icardi Inzaghi deluso non si dà pace a un centimetro da tutto fuori in Coppa Italia ai rigori in Europa League per un blackout e ora la Champions persa a pari punti con l'Inter rimane l'unica soddisfazione della stagione la vittoria della Supercoppa contro la Juventus all'inizio ero tra i pochi fiduciosi ragazzi mi hanno sorpreso e non vedevo lo stadio così pieno dai tempi dello Scudetto che ha vissuto in prima persona l'altra faccia della medaglia Spalletti l'interista che festeggia con la curva il ritorno tra i grandi il tecnico lascia il dopogara ai suoi giocatori senza parlare gestore perfetto del momento di crisi invernale ora si gode il risultato pieno presto allungherà il contratto fino al 2021 una crisi che era iniziata proprio con la sconfitta casalinga contro l'Udinese un'Inter che ha saputo risollevarsi la notte di De Vrij il rigore causato le lacrime l'addio un addio non molto bello quello dell'olandese alla Lazio il difensore a fine gara inconsolabile in panchina avrebbe voluto concludere in modo diverso l'avventura a Roma ma poi partono le mille dietrologie i cattivi pensieri l'anno prossimo giocherà con l'Inter e giocherà la Champions League stranezze del mercato lo ripetiamo dei contratti depositati prima della fine dell'anno Ranocchia gode solo l'inizio c'è un progetto la festa coinvolge giocatori tecnici e perfino Steven Zhang a bordo campo in lacrime lo abbiamo visto nella foto anche che andiamo qui a evidenziare con il pianto di commozione di Steven Zhang proprio al termine della partita tra Inter e Lazio fa festa anche l'altra milanese il Milan 5 gol e sesto posto per quanto riguarda i rossoneri Simeone spaventa poi si scatenano Cianoglum e Cutrone la Fiorentina va KO con Gattuso che ha fatto 39 punti che in proiezione sarebbero 78 quindi un Gattuso che merita assoluta riconferma l'estate dei rossoneri non sarà rovinata dai preliminari di Europa League che dovranno fare invece i giocatori dell'Atalanta Donnarumma Fischi a bracci che stanno di addio il portiere ha lanciato la maglia ai tifosi ha salutato a lungo i compagni anche se Mirabelli ha detto che il portiere non è sul mercato il personaggio e Cutrone che va in doppia cifra hanno indimenticabile e la favola non è ancora finita passiamo anche a leggere quelli che sono gli articoli relativi proprio alle squadre coinvolti nella lotta salvezza il Cagliari Cepitelli ci mette la testa fa festa l'Atalanta è settima il rapido 2-0 del Napoli contro il Crotone da tranquillità ai Sardi che segnano l'87esimo Nerazzurri in Europa League ma dai preliminari due le gare consecutive vinte dal Cagliari senza subire gol non succedeva da settembre 2017 l'ira di Gasp sul calcio di rigore Caldara che c'entrava perché l'Atalanta ha anche sbagliato un calcio di rigore sono quelle piccole cose che non ha non ha digerito Gasperini perché comunque non doveva tirare questo calcio di rigore Caldara che voleva regalarsi un ultimo gol Caldara che andrà alla Juventus però ha chiuso con un rigore fallito non di certo la migliore cosa da fare Lopez il futuro ne parleremo dopo fatemi prima godere questa vittoria ha detto il tecnico del Cagliari molto soddisfatto a Firenze con quella vittoria c'è stata la nostra svolta non invece contentissimo il presidente Giulini che ha detto io comunque mi aspettavo di più c'è anche poi il giorno di Allegri qualità cessioni Champions e fame pronto un prolungamento fino al 2021 come detto prima di tornare all'edicola di Cossignaco c'è anche una squadra cannibale al femminile scudetto di rigore alla Juventus nello spareggio per il titolo trionfo della Juventus Women contro il Brescia dopo lo 0-0 il successo arriva al primo anno di vita decisivo l'errore della Di Criscio dal dischette quindi la Juve che festeggia sia il campionato maschile che quello femminile davvero senza freni la squadra bianconera siamo pronti ad andare all'edicola di Cossignaco con David Zagirato e Furio Corosu buongiorno di nuovo a voi Sì eccoci qua ci ha raggiunto mister Furio Corosu che come l'udinese una settimana prima ha ottenuto la salvezza con il suo tricesimo ripartiamo da qui ma anche dagli ultimi verdetti alcuni li abbiamo commentati con Gigi soprattutto per quanto riguarda la vittoria nella partita dell'andata dell'Uminiaco proviamo anche a immaginare cosa potrebbe accadere poi se dovesse passare questo turno Sì dovrà avere ancora un turno nazionale quello automaticamente dopo ti darà la promozione in serie D indubbiamente sono ancora tre partite quindi siamo non a metà dell'opera ma siamo solamente a un quarto eventualmente se questo avvenisse chiaro le classificazioni della promozione darebbero un ulteriore posto in questo momento chiaramente le due sconfitte sanvitese da una parte primordia dall'altra diventerebbero in gioco Per quanto riguarda proprio appunto le ultime promozioni quella della fiume Veneto Bannia e della Juventina risultati importanti in parte anche a sorpresa commentavamo proprio con Gigi Ma diciamo che storicamente usiamo la parola pesante la Juventina insomma negli ultimi anni ha sfiorato ripetutamente questo traguardo ricordo che anche una volta ha vinto i playoff ma quella volta non c'erano assolutamente anzi era tutto il contrario perché non c'erano solo squadre dalla Serie D e quindi non c'erano possibilità di passaggio questa volta questa volta finalmente ha centrato il bersaglio per quanto riguarda il fiume Veneto era l'antagonista più grossa del Flaibano nell'altro girone avrebbe dovuto essere veramente un braccio di ferro poi in realtà il Flaibano ha dimostrato di essere più forte ammazzato da subito il campionato diciamo che anche il valore del fiume Veneto inteso come da Micella ha fatto sì magari di non accorgersi di lui però effettivamente il fiume Veneto era una delle squadre titolate a vincere e ce l'ha fatto attraverso il playoff battuta finale mister ha già deciso cosa farà a settembre no beh sono abbastanza diciamo tra virgolette vecchio ed esperto per sapere che adesso devo riposare devo guardarmi in giro valutare le cose con calma e poi ci vedrà le offerte non mancheranno sicuramente grazie mister Corroso a te Stefano poi ci risentiamo per l'ultimissimo collegamento con i saluti finali con Gigi grazie mille Davide Zanirato Furio Corroso noi continuiamo sulla Gazzetta appunto per anche leggere quello che è l'articolo relativo alla vittoria dell'Udinese segna Fofanà Udinese salva Bologna K.O. nessun passato di Voriano regala la vittoria a Tudor Donatori chiude con quattro sconfitte di fila un punto nelle ultime cinque questa l'esultanza di Barak alle spalle di Fofanà che uno indica l'orecchio e l'altro la testa risultanze tipiche da parte di entrambi tra l'altro uno ha fatto l'assist e l'altro il gol anche uno sguardo alle pagelle il migliore anche per la Gazzetta ma non può essere altrimenti è Emil Alfredson l'uomo venuto dal nord è tornato in forma per il mondiale nove palle recuperate 35 passaggi riusciti poi comunque tutte sufficienze di gran lunga importanti 5 e mezzo soltanto per Samir e Perizza che non hanno convinto la Gazzetta fioccano anche un paio di sette appunto a Barak autore dello splendido assist ma anche a Tudor seconda partita senza prendere gol ha eliminato in tempo l'handicap più grave il migliore del Bologna ed è un dato importante il portiere da Costa entra al posto di Mirante fermato da un guaio muscolare non giocava dal 4 novembre non può nulla sul gol notevole la parata su Lasagna e Barak poche invece le sufficienze nel Bologna tranne 2-3 gli altri sono tutti insufficienti con Avenatti che prende 4,5 grande assente nell'intera gara Antenucci Superstar spallo in paradiso stesa la Samp contenti i tifosi della Sparta contenti anche per Alex Merette che è andato a festeggiare a Ferrara questa grande salvezza Iaco Falche-Baselli Genoa K.O. Toro che chiude con il sorriso pronto a ripartire sempre con Mazzarri in panchina che dice Terrei Belotti da una percentuale al 150% voglio una rosa di uomini motivati lo spirito è quello giusto c'è poi anche il saluto di Perin che ha giocato la sua ultima con la maglia del Genoa pare che all'orizzonte possa esserci proprio la Juventus le prime pagine cominciamo dal Corriere dello Sport che parla dell'Inter è un Inter che cambia la storia nello stadio del 5 maggio batte la Lazio e conquista la Champions De Vrij provoca il rigore che riapre la gara Icardi re del gol con Immobile secondo Alessandro Vocarelli nel suo commento ci sono i meriti di Spalletti ma anche i tanti errori della Lazio Cagliari salvo Cepitelli piega l'Atalanta Rosso Blu restano in A con Udinese Chievo e Spall ad andare in B è il Crotone Beb Italia sogno svanito e questo è davvero un peccato nell'Under 17 ai rigori contro l'Olanda dopo il 2 a 2 nei tempi regolamentari finisce 6 a 3 MotoGP lo vizioso sbaglia Marquez Domina Andrea Cade Mark scappa via Petrucci secondo vale sul podio e poi c'è Nadal che torna re di Roma Zverev dominato Pioggia che ha aiutato lo spagnolo e poi Napoli Veleni e Mistero con De Laurenti che attacca la Juve scudetto nostro ma mica potevamo rubarlo si continua con questa polemica un po' sterile poi mette fretta al tecnico che replica anche le cose belle possono finire chiediamo con tutto sport prima di andare a Nago Signaco per il saluto finale Juve Perin ci siamo il portiere saluta il Genoa il mio futuro dovrò duellare con un grande numero uno parole che sembrano indicare la strada per la Juventus Sarri parole d'addio Inter pazzesca in taglio alto grande rimonta all'Olimpico con la Lazio che cede il passo Baselli resto Mazzarri pensa già all'inizio del ritiro al 6 luglio poi Milan in Europa con l'Atalanta che va ai preliminari nel MotoGP di Francia dove vizioso cade vince Marquez mondiale ciao e poi tutti quelli che sono gli inserti di tutto sport che possono interessare relativamente andiamo a Cusignacco dove ci aspetta di nuovo David vengo da voi grazie Stefano per i saluti finali al termine di questa stagione ringraziamo naturalmente Gigi per l'ospitalità da settembre ogni lunedì siamo stati qui a raccontarvi il calcio di lettanti e non solo e con Gigi vogliamo anche chiudere con un ultimo pronostico quello per i mondiali allora dici quale potrebbe essere la sorpresa e chi vincerà il mondiale allora io credo metto favorita la Germania una squadra che comunque ha tanti giovani forti a un mix di giovani vecchi la sorpresa io dico la Francia se girerà Griezmann come ha finito l'anno adesso la Francia potrebbe essere una sorpresa grazie allora registriamo teniamo buona la registrazione di questo pronostico di Gigi da Cusignacco è davvero tutto per questa stagione sportiva grazie anche Emanuele Sergi a voi grazie a voi adesso poi i nostri notai sono già all'opera per vedere se la Francia può essere considerata rivelazione però detto ciò mettiamo agli atti poi faremo le buste magari anche in redazione con David e tutti gli altri ringraziamo appunto per i collegamenti di Gigi di Cusignacco ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento a tutto il resto della nostra grande programmazione stasera Udinese Tonight con collegamenti da Carnera a non perdere per Gara 4 sarà una serata ricchissima da passare sempre in nostra compagnia qui su DNews TV grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.